Buonasera, benvenuti a Medicina Amica. Oggi il titolo della nostra trasmissione è Diabete sommerso, quindi potete intuire che parleremo di questa grave, importante malattia, ma il titolo non sta tanto a significare sommerso perché è vero, ogni anno si fanno sempre più diagnosi di diabete, purtroppo il numero è in crescita, è veramente impressionante, tant'è che molti studiosi di salute internazionale la stanno definendo questa una vera e propria pandemia, ma sommerso questo aggettivo in questo caso ha un significato estremamente positivo, perché parleremo di immersioni subacque, perché fino a qualche tempo fa sicuramente si pensava di porre limiti all'attività delle persone afflitte da diabete, oggi invece una scommessa è stata vinta e partendo proprio da un'esperienza, da un progetto realizzato da alcuni diabetologi in compagnia di giovani adulti diabetici abbiamo potuto appurare che non ci sono limiti, che anche le persone con il diabete possono praticare i cosiddetti sport estremi, quindi la prima parte della nostra trasmissione sarà estremamente positiva, vi dimostrerà come se ben compensato il diabete può essere assolutamente compatibile con una vita normale, anzi una vita sotto certi aspetti piena di soddisfazioni e di gioie. Vorrei salutare la dottoressa Pomini, benvenuta Federica, infreddolita più che mai, ma data la stagione anche piuttosto naturale e vi presento subito i nostri ospiti. Diamo il benvenuto al dottor Matteo Bonomo, buonasera dottor Bonomo, ricordiamo al nostro pubblico che lei dirige la struttura di diabetologia dell'ospedale Niguarda Can Grande di Milano, una grande struttura e abbiamo una giovane graziosa paziente, è Valentina Visconti, più che paziente dovrei dire una grande sportiva, una subacquea, fa parte appunto dell'associazione Diabete Sommerso. Benvenuta Valentina, perché lei ci sarà preziosa per la sua testimonianza e in ogni momento della trasmissione per confermare o smentire quello che si sa, che si pensa, si spera o si teme a riguardo di questa malattia che resta sempre qualcosa di difficile, quasi un nemico poliedrico da affrontare, che però se ben conosciuto si può anche mettere nell'angolo, io spero che sia così. Però vorrei che a parlarci proprio dell'idea, dell'iniziativa, della realtà, fosse il dottor Bonomo che ne è stato l'artefice. Avevamo sospettato fin dall'inizio la dottoressa Pomini e Dio che sotto sotto ci fosse una sua passione per l'attività subacquea a determinare questo progetto e quindi verità alla mano ci racconti come è nato e come soprattutto si è rivelato vincente. Possibile? Sì, certo. Certamente sì. L'idea di fare la subacquea piuttosto che un altro sport è venuta anche dal fatto che senza essere un grandissimo esperto è sempre stato un tipo di attività sportiva che mi ha affascinato, l'ho sempre fatto fin da giovane sia in apnea che poi successivamente con le bombole. Comunque a parte l'esperienza personale, l'idea era proprio, si inserisce un po' in una corrente, un po' di iniziative che c'è stato e c'è ancora, c'è stato qualche anno fa, che tendeva ad avvicinare, a dimostrare che le persone con diabete, un giovane con diabete se ben controllato, non deve essere per il solo fatto di essere diabetico escluso da un'attività, da qualunque tipo di attività e anche da un'attività sportiva complessa o addirittura un'attività sportiva come diceva lei estrema. In realtà la subacquea per chi la conosce non è poi così estrema, è uno sport abbastanza, non particolarmente faticoso. Però per un diabetico, dottor Bonomo potrebbe rappresentare qualche rischio, qualche insidia in più. Certo, l'insidia principale deriva dal fatto di svolgersi in un ambiente che non è l'ambiente abituale, in cui alcune atti che fuori dall'acqua possono essere facili come prendere un rassumere dello zucchero, farsi anche della terapia e evidentemente sott'acqua presentano qualche difficoltà in più. Comunque l'idea nostra è che... Perché il rischio, ci scusi se io la interrompo, il rischio sono le ipoglicemie quindi... Ma i rischi sono diciamo le complicazioni metaboliche acute cosiddette. Ho capito, quindi all'inizio quando avete pensato di provare avevate diciamo questa paura insomma, avevate questo rischio da tenere sotto controllo. Sì, il rischio principale è effettivamente quello di andare topo bassi di glicemia che è un'evenienza che nella vita di una persona con diabete, soprattutto di un diabetico di tipo 1, quindi che si fa insulina, è una eventualità. Perché quando parliamo di giovani adulti parliamo di persone veramente giovani, ad esempio Valentina si è scoperta diabetica a 20 anni, diceva prima, quindi una ragazza proprio. La tuttora giovane Valentina. Sì, lì va forse chiarito di cosa stiamo parlando come diabete, perché sono tutte queste persone che hanno partecipato a questa esperienza per adesso dei diabeti di tipo 1, cioè diabete quello che una volta si chiamava giovanile. Io non faccio il pediatra per cui la mia esperienza... Quindi è diabete che è insulino dipendente, giusto? Che è per definizione insulino dipendente. Che già dall'inizio si manifesta così. Perché è una malattia che viene perché il pancreas smette di fare insulina, quindi non c'è alta possibilità che non fare dell'insulina come terapia. Dicevo io non faccio il diabete, quindi non faccio il pediatra. Perché purtroppo mi conferma che sempre più bambini diventano diabetici. Sempre più... Sì, sta aumentando anche questa quota di diabete nell'infanzia e nei primi anni di vita. In realtà la parte del diabete che sta aumentando clamorosamente è quella della popolazione anziana. Comunque sta aumentando anche nella popolazione giovanile. Noi, essendo un centro dell'adulto, in realtà abbiamo un'esperienza, io personalmente ho un'esperienza, anche se mi sono sempre occupato, purtroppo ormai da decenni, perché il tempo passa, di diabete... Grande esperienza. Siamo già all'inizio degli anni 80, che mi sta dedicando a... che mi occupo di diabete e mi sono sempre prevalentemente occupato di diabete di tipo 1, di diabete giovanile, diciamo. E vediamo persone che vanno ufficialmente dai 18 anni in su. Capita anche di vedere alcuni pazienti che adesso ormai sono degli... come Valentina, che sono degli adulti, ho cominciato a seguirli che avevano 14-15 anni. Però ci sono anche dei bambini più piccoli. Ci sono anche bambini piccolissimi. Ci sono bambini... c'è addirittura un diabete neonatale, ma il diabete di tipo 1... Il diabete neonatale è legato però al diabete gestazionale della madre o si può sviluppare in maniera autonoma addirittura? No, del tutto indipendente dal diabete gestazionale. È molto allarmante questo. Sì, ma no, in realtà è una... Per fortuna si tratta di rarità. Io credo di averne visto personalmente nessuno, nell'ambito dove lavoro io, nell'ospedale, Anche nella sua grande struttura sono orari, per fortuna. Mentre invece il diabete in età infantile è effettivamente frequente, può cominciare a pochi mesi o pochi anni di vita. E comunque insomma... C'è una... Tutte le fasce d'età possono essere interessate fino all'età adulta. Quella diabete di tipo 1, diciamo, che è più frequente sotto i 35-40 anni, anche se poi può esodire anche a qualunque età, io ho anche delle diabete di 80 anni. Cioè può venire anche in seguito una malattia virale del pancreas, oppure anche non del pancreas. Ci saremo poi tutte queste domande, Federica, nella seconda parte, perché ho catturato al balzo proprio l'occasione. Il diabete di tipo 1 e cos'è il diabete di tipo 2? Perché noi lo sappiamo a forza di parlare. Sì, è vero, ne abbiamo fatti abbastanza. Però non è così semplice. Abbiate pazienza. La prima parte è dedicata al progetto, la seconda. Veramente faremo le domande a raffica al nostro ospite, perché vogliamo sapere tutto sulla situazione attuale, su quella mondiale, su quali saranno le terapie del futuro. Proprio oggi ho letto delle novità interessantissime, anche per farsi gli autocontrolli. Per cui abbiate qualche minuto di pazienza, perché prima vogliamo iniziare proprio con una nota positiva. Dire attenzione, questa è la malattia probabilmente del futuro, sarà un problema a livello mondiale, però la buona notizia è che molti possono conviverci bene per tutta la vita, e questo è già qualcosa di positivo. Poi andremo a vedere tutto quello che si può fare anche per prevenire, o per attenuare quelli che possono essere i danni correlati al diabete. Tu però le sai tutte queste cose, volevi solo anticipare. Allora, diciamo che così, di primo acchito si potrebbe immaginare che le persone che hanno il diabete di tipo 1 sono le persone, diciamo, quelle che hanno una situazione più seria, che perlomeno esordiscono già con una situazione più severa. Diciamo che hanno un esordio solitamente più acuto. Poi non è necessariamente vero che il diabete di tipo 1 sia più grave del diabete di tipo 2, anzi, forse come esperienza nostra le complicanze serie del diabete sono forse addirittura più frequenti nel diabete di tipo 2 che non nel diabete di tipo 1. Infatti le cose bruttissime si vedono negli anziani, cioè certe cose che non vorremmo proprio più vedere. Ma parliamo di mare, parliamo di immersioni, parliamo di cose meravigliose. Quindi lei ha fatto in tutta autonomia o supportato dal suo gruppo, ad esempio dall'ambiente in cui si trova ad operare? È stato molto supportato, diciamo, dall'ambiente ospedaliero in generale, nel senso che questa proposta che abbiamo fatto è stata accolta con entusiasmo dalla dirigenza dell'ora dell'ospedale che poi nel frattempo è cambiata, dai colleghi, da altre specialità. Tra l'altro per mettere in piedi questo progetto abbiamo messo appunto in piedi una piccola equip che era fatta casualmente da me, come diabetologo, c'era un ematologo, anche lui appassionato di subacquea, c'era un oculista, c'era un endocrinologo, per cui abbiamo, c'erano questi medici di diversa estrazione che erano accomunati un po' dalla passione per le subacquea. Per non lasciare anche niente al caso, in sostanza. Poi ho letto nell'articolo di giornale che in un secondo momento si sono avvicinati anche medici di medicina iperbarica o di medicina dello sport. E poi a parte la componente medica, una grossissima ruolo hanno avuto l'associazione dei pazienti diabetici. Quando siamo partiti noi, un ruolo fondamentale e trainante ha avuto l'associazione di diabetici della provincia di Milano che ci ha proprio supportato molto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di propaganda, dal punto di vista di coinvolgimento dei giovani diabetici. E qual è stata la vostra prima uscita, la vostra prima immersione? Dove? Allora, la nostra prima immersione è stata fatta nella piscina dell'ospedale di Niguarda. Perché ci si deve preparare, giusto? Il nostro spedale ha... E' stata una dei primi? E' stata la primissima. Ah beh, quindi allora dovrà assolutamente supportare. Questa però non è la piscina. No, lì siete in mare, in mare aperto. La piscina è un'acqua più... Perché lì c'è un palito? No, qui siamo nel Conero, dal colore. O in Adriatico sicuramente, siamo a Ravenna probabilmente. Era un'immersione al Paguro, che è una piattaforma a largo di Ravenna che è affondata e che adesso ha una profondità di 30 metri. Quindi quelle piattaforme petrolifere che si vedevano proprio dalla costa. E tra l'altro, come tutti questi relitti, diventano poi un parabolum per fare una subacqua ed è un posto veramente molto affascinante perché è pienissimo. Da scoprire proprio da... E lì abbiamo fatto nel settembre, nell'undici, la prima, salto un po' avanti, la prima uscita nazionale di questa associazione di diabete sommerso. Abbiamo portato, credo, più di 50 giovani con diabete a immergersi. Guardate che bel gruppone davvero. E all'uscita ci siamo avvicinati al relitto con questo nav, con questo immocchiatore perché è veramente un grosso gruppo. Sto comunque tornando alla domanda precedente. La prima immersione fu in piscina, giustamente, ma perché anche le scuole sub tradizionali partono da quello. Sì, è stata un po' un'idea promozionale. La nostra piscina in ospedale in realtà ha una profondità di un metro e quaranta, per cui era difficile fare delle immersioni, ma giusto per... Bisognava veramente impegnarsi allora lì. Per verificare l'acquaticità, l'unica cosa che veniva richiesta da un punto di vista natatorio è ovviamente di avere familiarità con l'acqua. Di sapere nuotare e non essere dei grandi nuotatori e di, appunto, non avere difficoltà a immergersi anche in pochi centimetri. Ci sono persone che mettono la testa in acqua e sono colte dal panico. Ne ha una di fronte. Ne ha una di fronte. E quindi vi invidio veramente molto. E poi dopo lì che abbiamo fatto i primi corsi in una piscina vicino a Milano a Varedo, che... Penso che siano queste le immagini. Queste sono immagini di un anno successivo, qui siamo sul Conero, a Numana, una piscina di Numana. Ah, ho capito. E la prima uscita in mare in realtà l'abbiamo poi fatta in Liguria, a Bergigi. Alla fine del primo corso siamo andati a Bergigi, mi ha fatto due giorni, mi sembra lì, no? Sì. Ed è stato molto bello anche come esperienza. Piuttosto difficoltoso anche. Perché sappiamo che quello è un mare che richiede esperienza. Poi, la prima volta che vai in mare è comunque diverso dall'acqua confinata. Adesso passiamo la parola a Valentina che ci racconta attraverso il filtro del suo personale ricordo, insomma, come fu la prima volta. Allora, la prima volta innanzitutto era il 2004. Ed è stato emozionantissimo, è stato proprio bello. Io volevo già da molto tempo fare Subacquea e con Matteo Bonomo in Iguarda ho trovato proprio l'occasione. Quindi è stato veramente molto emozionante. Emozionantino sono sempre le immersioni. C'è sempre questa componente di emozioni molto forti. E quindi, bello, molto bello. È un mondo che lei pensava le fosse precluso, quello del sotto. No, effettivamente all'inizio mi è stato precluso. Io volevo fare appunto Subacquea già da molto tempo, ma mi avevano proprio detto, no, sei diabetica e quindi non puoi andare sott'acqua. Quindi è stata una grossa conquista quella di poter ottenere il brevetto e poi tutti quelli successivi. Quanto tempo ha richiesto e che tipo di impegno? Non è stato pesante, difficile? Ma allora, il primo brevetto è stato un classico open water party da cinque lezioni più un'integrativa per il modulo del diabete. Dopodiché ho preso altri brevetti. Adesso l'ultimo l'ho conseguito a giugno dell'anno scorso, che è il primo professionale. Complimenti. Quindi in lei c'era veramente questa forte pulsione e anche questo talento, insomma, capacità. Bene. Quali sono stati i dubbi, magari anche in ambito familiare o anche i suoi propri? A parte la paura legata all'immersione, che potrebbe essere anche una componente umana molto giusta, un po' di timore così, ma legato invece alla sua malattia, lei aveva, poi ci racconta cosa devono fare, cosa devono mangiare, come vi fate i controlli. Esatto. Ma in realtà, diciamo così, le paure sono state un po' escluse sin dall'inizio, nel senso che è stato creato da Matteo e dalla sua equip un protocollo per affrontare appunto le immersioni in maniera sicura. E quindi si inizia con una preparazione sin dal giorno prima, in alcuni casi, e da una preparazione molto assidua nei momenti che precedono l'immersione, per far sì che tutti gli elementi siano adatti per poter stare un'ora o anche... Deve essere un gruppo omogeneo anche da quel punto di vista, in sostanza. Sì, 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 certo. Comunque si deve controllare sia l'alimentazione che la terapia, in alcuni casi anche le emozioni. Ma se si seguono queste linee guida, senza dubbio si può sottolineare. Andiamo sul pratico. Quindi la mattina prima, la sera prima e la mattina precedente all'immersione, cosa fate? Quali sono le cose che assolutamente si devono fare? Allora, in alcuni casi bisogna... Vado io? E poi vediamo se è corretto. Esatto. Cambiare, modulare la terapia che si fa la sera prima. In alcuni casi dipende. Il giorno stesso, invece, bisogna fare una serie di controlli di glicemia, quindi il prelievo capillare dal dito. Sì, il classico bocchetto sul dito. La mattina, innanzitutto, quando ci si sveglia e poi un'ora prima, mezz'ora prima e dieci minuti prima di entrare, cioè appena prima di entrare. In questo modo... E quindi niente deve intoppare? Perché deve andare veramente tutto bene? Quindi, se no, ci si deve arrestare? Sì, se arrestano loro, se arrestano anche gli altri che sono insieme, preoccupi, resta un po'. Quindi, immagino con quale tensione si faranno gli ultimissimi controlli proprio. Beh, ma in realtà, facendo dei controlli così assidui, si riesce a vedere l'andamento della glicemia. E quindi, eventualmente, correggerla prima. Quindi, mangiando qualcosa? O mangiando qualcosa o modificando la terapia, insomma, cercando di portare la glicemia a dei livelli predeterminati. Quindi, questo... Prego, dottore. Perché il... come dicevamo prima, il rischio può essere sia la glicemia alta che la glicemia bassa, cioè l'ipoglicemia. Il vero rischio è l'ipoglicemia, che vada eccessivamente sotto come livello. Ecco, qui chiariamoci anche per i telespettatori. Essere in ipoglicemia significa avere... Una glicemia bassa. Esatto, una glicemia bassa e quindi, che cosa? La perdita delle forze, un vertigine... Ci sono diversi sintomi che, tra l'altro, una delle difficoltà, non so, un sintomo classico può essere la sudorazione, o il tremore, oppure delle disturbi di visione. Poi forse lo può dire meglio chi lo vive ogni tanto, questa esperienza. Il problema è che, sott'acqua, molti di questi sintomi, come si può immaginare, la sudorazione è difficile sentire sott'acqua. Il brivido può essere anche un brivido di freddo, per cui bisogna cercare di prevenire il più possibile questa complicazione. Per cui c'è un po' un procedimento mentale che non è stato facilissimo fare accettare. Nel senso che noi abbiamo, in continuazione diciamo, i nostri pazienti che devono stare con delle glicemie il più possibile vicino alla norma, nella vita di tutti i giorni, per andare sott'acqua in sicurezza bisogna invece accettare, per i pochi minuti che dura un'inversione, tenendo conto che un'inversione non dura più di un'ora, due o tre quarti d'ora solitamente, mezz'ora, tre quarti d'ora. Per quel breve periodo di tempo non solo è accettabile, ma è più sicuro avere una glicemia un po' più alta, intorno alla... Il nostro protocollo prevede che l'ideale sia fra i 150 e i 250 di glicemia, che detto così dirà poco, ma chi conosce il diabete sono valori piuttosto alti, insomma, sopra i 200 solitamente si insegna alle persone a non andare. Sono valori sconsigliati, ma in questo caso invece sono prudenzialmente quelli auspicabili. E non succede nulla se per qualche minuto o se per mezz'ora, una volta ogni tanto, si sta alti. Il problema è evitare dei rischi in immersione, che sono ovviamente più profondi. Ecco, voi fate fino a quali profondità scendete? Beh, questa è una questione soggettiva, dipende dal brevetto che si prende. Ha parlato di ignorante, si sente subito. Ma voglio dire, in massimo, c'è un limite per un diabetico o potrebbe addirittura... In realtà noi siamo partiti con... non è proprio soggettivo. Siamo partiti con un protocollo che diceva che sulla base, essendo la prima volta che si sperimentava un'esperienza di questo tipo, non si andasse oltre il brevetto di primo livello che autorizza di immergersi fino a 18 metri. Questa era la partenza. Poi, man mano, come era prevedibile, le persone che sono brevetate la prima volta hanno sempre più insistito per proseguire. Hanno spinto. È un esempio. Ecco, ce l'abbiamo qui davanti. Attualmente, col brevetto che ha lei, può andare tranquillamente a fare delle immersioni profonde fino a 30-40 metri. E che richiedono, mi scusi di nuovo l'ignoranza mia, ma richiedono la decompressione? Non necessariamente, perché lì dipende se si sta in curva di sicurezza o no. Un'immersione, anche profonda ma molto breve, non ti fa uscire dalla curva di sicurezza e quindi non necessita la decompressione, perché la decompressione effettivamente può essere un problema, perché vuol dire stare ferme sott'acqua per un certo numero di minuti. Se si sta bene, può essere tutto il più noioso, ma se si è in ipoglicemia... Invece c'è la fretta di risalire per mangiare qualcosa, immagino. Perché alla fine... E cosa mangiate? Cos'è il vostro salvavita quando siete in ipoglicemia? Lo zucchero. Lo zucchero. Il nemico diventa il salvavita. Sì, bisogna sempre ricordarsi che il nostro carburante è lo zucchero, se non abbiamo lo zucchero non andiamo. No, no, soprattutto sappiamo che il cervello non può vivere in assente, infatti... No, no, tutti i nostri tessuti, se non c'è lo zucchero, no, vai. Però ovviamente ci vogliono dei livelli corretti, perché se no poi andremo a sviscerare più tardi. Con il diabete si può incorrere in qualcosa, si può quasi sciogliere nello zucchero, in sostanza. Allora, direi che è andato tutto benissimo e che a voi si sono uniti poi strada facendo altri gruppi, perché ho visto Ravenna, Iconero, insomma, quindi avete contagiato altri centri di diabetologia, immagino. Beh sì, la seconda, per alcuni e per diversi anni è andata avanti solamente a Milano, Milano e zone di mitofe, diciamo. Invece con il 2000, mi sembra, 10, è partita l'esperienza del Conero. Ci sono stati contattati dai subacquei del Conero che avevano letto qualche cosa, un po' su internet, un po' sulle riviste subacquee. E è stato contattato personalmente, ha detto, dacci una mano, vorremmo organizzare... È stato un infermiere approssato in subacquea delle Marche che mi ha chiesto di dare una mano per organizzare questo corso. E lì è partita quest'altra fase che è stata molto bella, perché al Conero abbiamo fatto diversi corsi per diversi anni, abbiamo trovato un agosto entusiasmo da parte di subacquei locali, da parte dell'Associazione dei Diabetici Locali, in subacquei locali, in questo caso erano di abetici, di sanzioni giovanili, dei pazienti di abetici, e abbiamo fatto, mi sembra, tre o quattro corsi annuali nel Conero. Dopodiché nel frattempo è partita, su nostra iniziativa, su iniziativa dell'attuale presidente di Diabetes Sommerso, che è la dottoressa Laura Cingoli, un'associazione nazionale che si chiama Diabetes Sommerso, che ha cercato di, che l'obiettivo è di creare una rete sul territorio nazionale di professionisti della subacquea e di diabetologi, di professionisti di diabetologi, in modo che si possa, un po' su tutte le coste italiane, avere delle... Delle equipi preparate, motivate e entusiaste per questo sport. Che tuttora questo è il nostro obiettivo, non ci siamo ancora, stiamo lavorando un po' in questo senso. Insomma, mi pare di aver letto anche Doha, ho letto bene. Avete fatto qualche escursione all'estero? No, a Orgada siamo andati. Siamo andati a Orgada? Sì, a Orgada sempre nel 2010, mi sembra la fine. Il primo corso di Numana ha avuto come viaggio premio, diciamo. Caspita! Quindi nel Mar Rosso, insomma, che si dice sia il paradiso per i suoi. Sì, è molto bello, sì. È molto bello come... Quindi Costa Corallina? Sì. Barriera Corallina. Corallina, una fauna che danno... Per carità, è affascinante anche, io non penso che... In Mediterraneo penso che sia altrettanto affascinante, per certi aspetti, forse di più che altri mari. La Mar Rosso e questi mari hanno i colori che noi non abbiamo, i colori del corallo, certo, i colori dei pesci che noi non abbiamo. Ha una quantità di pesci che sicuramente è diversa dalla nostra. Diciamo che sono fascini diversi e complementari. È più elettrizzante, diciamo così. Vediamo insieme quel filmato breve che la regia ci ha più volte richiamato alla mente. Per chi soffre di diabete, tra le diverse conseguenze di questa patologia, rientra anche quella di vedersi precluse molte attività sportive. In realtà però si tratta di una preclusione che può essere superata, come dimostra il progetto Diabete sommerso, che dal 2004 ha introdotto giovani adulti con diabete mellito alla pratica delle immersioni subacquee con autorespiratori. Un progetto nato su iniziativa del Centro di Diabetologia dell'Ospedale Niguarda Cagranda di Milano, in collaborazione con l'Associazione Diabetici della provincia di Milano e di Daniuro, ente di riferimento internazionale per quanto concerne la sicurezza subacquea. Un progetto che dimostra che la pratica subacquea può essere praticata in sicurezza, purché il diabete sia ben controllato e non sussistano complicanze croniche. Infatti i modesti rischi comunemente connessi a tale attività risultano solo minimamente aumentati dalla presenza del diabete, purché ben compensato, mentre le eventuali difficoltà aggiuntive possono derivare esclusivamente da possibili reazioni ipoglicemiche, che sono facilmente prevedibili, con una corretta preparazione e con l'adozione di adeguate misure precauzionali. Così negli anni Diabete Sommerso ha mostrato l'efficacia della sua proposta grazie ai sette corsi di primo livello Open Water Diver, effettuati con un programma appositamente concepito, che integra la classica didattica internazionale con una serie di nozioni teorico-pratiche connesse alle problematiche proprie del paziente diabetico. Corsi che hanno portato 48 giovani con diabete di tipo 1 a conseguire il relativo brevetto. È comunque chiaro che in tutto questo percorso una preparazione teorico-pratica mirata risulta essere l'elemento essenziale e irrinunciabile per prevenire, durante lo svolgimento dell'attività, eventuali complicazioni metaboliche. Nel 2010 il progetto si allarga ancora e grazie all'Associazione Famiglie con Adolescenti e Infanti con Diabete giunge nelle Margo, dove i sei giovani adulti con diabete mellito di tipo 1 conseguono il brevetto di primo livello presso il centro-sub Monte Conero di Numana, attraverso un corso che si svolge nella splendida cornice della riviera del Conero, con il supporto di istruttori, medici e infermieri. Un'esperienza di forte impatto emotivo, che ha dato ulteriore impulso al progetto ed ha portato nel maggio 2011 alla fondazione dell'Associazione Nazionale Diabete Sommerso, destinata, tra l'altro, a proseguire, promuovere e implementare gli studi nel campo dei rapporti tra subacquea e malattia diabetica. Un'evoluzione che ha visto svilupparsi una particolare sinergia con Diabete Italia e con la sua peculiare attenzione alle problematiche a tutto campo delle persone con diabete. Un'evoluzione che ha arricchito l'intero programma di nuove valenze. Partendo infatti dalla motivazione della persona con diabete a confrontarsi con un'attività affascinante e impegnativa come la subacquea, il progetto è infatti arrivato a configurarsi come un percorso educativo per un'autogestione più consapevole della malattia. Insomma, Diabete Sommerso è un progetto in piena evoluzione, che come ultimo frutto ha visto compiere un corso di formazione per diabetologi, dal titolo Pratica Sportiva e Diabete di Tipo 1, una Full Immersion. Un'iniziativa preludio per un nuovo traguardo, la realizzazione di una rete diffusa sul territorio nazionale di diverse figure professionali esperte nel campo, ovvero il medico diabetologo e l'istruttore subacqueo, in modo da offrire una serie di centri di riferimento alle persone con diabete interessate alla subacquea. Dunque passi in avanti costanti per un progetto dalla duplice funzione. La valenza terapeutica fondamentale dell'attività fisica delle persone con diabete e la possibilità di poter vivere le sensazioni uniche del mondo sottomarino. Se si riesce a gestire il diabete sott'acqua significa gestirlo anche nel tutto resto della vita e quindi una soddisfazione anche da quel punto di vista. Bene, è molto interessante questo filmato e soprattutto molto esplicativo. E quindi direi che prima dello stacco pubblicitario ci siamo tolti proprio la soddisfazione di vederli in pratica e lei ovviamente in prima linea testimonial di quanto queste sfide accrescano anche la consapevolezza e soprattutto l'autogestione della propria malattia. E questo è sicuramente qualcosa di vincente. Vi aspettiamo tra qualche istante dopo la pubblicità ricordandovi che siamo in diretta, quindi mai come questa sera le vostre telefonate al numero che vedete ormai già in sovraimpressione da qualche tempo, dall'inizio della trasmissione possono essere opportune, utili e domande tutte quelle che volete e se siete diabetici, ecco e questo è il momento di fare anche il punto.